E' bello ragazzi sono Gili Braga, sono qui oggi tornato a portarvi un nuovo video, soprattutto oggi vi devo chiedere due cose Allora, come potete vedere mi mancano questi 6 colpi a distanza col paladin per sbloccare la mimetica oro Solo che regà non so come farli, cioè nel senso io non è che abbia mai cercato più di tanto di farli Ma ho visto che solo su jungle si possono fare, cioè mi pare di aver capito perché le uniche volte che le ho fatti le ho fatti su jungle Che sparavo tipo davano spawn all'altro e quindi i colpi a distanza riuscivano Solo sulle altre mappe non so in che mappe giocare per farli Quindi se voi avete fatto questa sfida qua e avete qualche consiglio per farla Così nei commenti lasciate un commento in cui mi spiegate quello che pensate sia più adatto da fare per sbloccarlo Seconda cosa come potete vedere ho prestigiato anche l'arma perché io sono un amante del vedere il contratto delle uccisioni Sulla sull'asio dell'arma come era su Black Ops 3 Solo che quest'anno qua su Black Ops 4 non trovo, cioè nel senso io ho attivato Tad Clan Non trovo sull'arma dove l'abbiano messo Non so se magari non hanno ancora raggiunto questa cosa Ma non lo trovo raga, proprio non riesco a inquadrarlo Quindi se qualcuno sa dove lo mettono me lo scrivo qua sotto nei commenti perché non lo trovo Niente oggi provo a giocare mezz'oretta e vediamo se riusciamo a fare questi colpi a distanza Magari andiamo su Dominio che magari ci fa giocare su Jungle Perché non riesco a trovare una mappa sulla quale io riesco a fare i colpi a distanza Fire Ingridge ad esempio non penso ci sia uno spawn, magari da uno spawn all'altro Però secondo me non è nemmeno colpi a distanza Però ci proviamo raga, vediamo un po' Io provo a stare il più lontano possibile Però non riesco a farli raga, non so perché Tra l'altro non c'è nemmeno la ricarica veloce sul Paladin Perché ho prestigliato l'arma come vi ho detto e non l'ho più usato Quindi faremo merda Ok Ok man Tra l'altro ci spaccheranno anche perché su Dominio la gente è fortissima Però Noi dobbiamo fare semplicemente sti cazzo di colpi a distanza Che sicuro non riuscirò a fare in questa partita qua perché non ci riesco Però Che palle raga, che palle sto c'è qua No Lol Di qua non penso sia colpo a distanza E invece colpo a distanza Ok abbiamo capito come si possono fare E niente raga io sto qua tutta la partita Voilà Ok Bloccato Black Ops E tipo in due settimane mi ci è capitato tre volte Non capisco a cosa sia dovuto Anche perché il PC continua ad andare benissimo Non è che ha dei problemi o roba del genere L'ultima cosa è uscito Morocco raga Morocco cioè Su Morocco è lo spazio più lontano che ci da una persona all'altra è di dieci metri Quindi colpi alla distanza non li facciamo manco per sbagli Niente raga Morocco non so nemmeno a giocarla perché Non voglio perdere tempo Non è che abbia più di tanto tempo per registrare Quindi devo trovare una mappa che sia ideale O jungle o firing range O altre non saprei Ah magari milizia Che è grande grande come mappa Quindi magari li facciamo easy O firing range Bella Guarda bisogna solo trovare un lobby decente Però vedo questi qua Che già Vabbè prestigio 2 Alla fine è abbastanza normale Dobbiamo farne 6 mi pare Perché eravamo a 4 E sono 10 da fare Voglio cercare di fare il prima possibile In modo tale che Così poi Facciamo avere una partitella con la Con la mimetica ora E dai Venite Non è un colpo di stanza Hey man Devo stare il più lontano possibile dalla gente Hey man Oh colpo di stanza 1 Ok colpo di stanza Ce ne mancano 4 Ok Ce ne mancano 3 Ok No dimmi che era colpo di stanza Ok ce ne mancano 2 Perché hanno fatto cambiare gli spawn Belli Ok Ultimo E poi sblocchiamo la oro Ok That's what I'm talking about Man No Perché mi tra la mimetica oro Oppa E quindi La partita dopo Si gioca con la mimetica oro Regà Io la quitterei E giocherei Con la mimetica oro Non so voi Che voglio provarla Visto che è la mia prima mimetica oro Di breakers 4 Infatti mi sa che Le prime La prima mimetica diamante La prenderò per i cecchini Perché sono quelli che utilizzo più spesso Ok Oh la Mimetica oro Bella pulita Cioè Vedete io se clicco nessuno E tag clan Non vedo nessuna differenza Magari Non l'ho noto solo io A colpo d'occhio Ma mi sembra non ci sia Vabbè Niente regà Direi che possiamo provare A fare una bella partitozza Ok regà Ci ho trovato firing range Cosa fai Nella giochi Tra l'altro Secondo me Questa È La miglior Mappa Di bellicops 4 Ma a mani Bassissime Quanto cazzo bella La mimetica oro Su black ops 4 Veramente Veramente Fica La diamante Qua cosa di spettacolare Regà Veramente spettacolare L'hanno fatta benissimo Qua su Splag ops 4 Mentre su black ops 3 Era bruttissima Era una delle mimetiche Più brutte che c'era La diamante Era veramente Fatta male Ehi man Cosa volevi Camparartare lì dietro Oh Ma questo Ehi Ehi Ma come Mark Alla gente Sul black ops 4 Piace un bot Abusare Del dmr O del O del cecchino Quello che spara Semi automatico Piace veramente Un bot Opa Un bel momento Non te lo toglie nessuno Attenzione E attivo Un segnale Tattico Vabbè Questo qua Mi ha distrutto lui Comunque Dite quello che volete Ma questa Mimetica qua Esteticamente Veramente Spettacolare Perché Perché non spawna nessuno Ma come C'erano Lol Oh Oh Questa qua L'ha sentita Ma Questo qua Mi è sponato lì O sbaglio Sicuro Ora dovete Difendermi Non male Rattio 2 Con lo sniper Bello pulito Ci facciamo ancora Una bella parte E vediamo un po' Cosa combina Ed è uscito Assienda Ma va bene Va benissimo Anche questo Oh Mi fosse entrato Quello Noscop Lì Penso che Ulisar Avrebbe pianto Per 10 15 anni Voleva killare Il mio compagno Voleva Ma pensate Oh Oh mio dio Dai 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 Ancora uno Ancora uno Ancora uno No Peccato Dì ci poteva stare Una bella clipozza Bella pulita Bello confuso E' questa E' una bella sveglia Frate Eh Hitmark E' col Paladin No Mark E' col Paladin Non si può vedere Eh infatti Lì avevo Avevo sentito La puzza Della collaterale Infatti Guardate qua La kill Della prima parte Bel quick E poi E poi Easy collaterale Boom That's what I'm talking about Man Non mi sembra niente di me Non mi sembrano sei Non ci sono Non vedo l'ora che esca Guarda terrestre No 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 Perché Hitmarker man Oh Sorry man Sorry 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 man Guarda che spawno adesso Niente raga Spero che magari Anche L'endgame Kill Sia mia Ma non penso Infatti non è mia Niente raga Io spero che questo video Vi sia piaciuto Su un bel like Un commentino E niente raga Ci becchiamo direttamente Al prossimo V T O No